Mi prendi il coccodrillo? Ma come fai a vivere? Cioè io potrei essere sposato, avere dei figli. Ma sei sposato? C'hai figli? No. E allora che vuoi? A me piaci così come sei, come ti ho conosciuto. Poi magari sarai fidanzato, ma chi non lo è. E poi io che ci posso fare? Se vuoi puoi rimanere qui tutta la vita. Stare con me, mettersi alla spiaggetta di notte e fare l'amore da impazzire. Perché no? Perché no? Perché no? Perché proprio no? Proprio no, non è possibile. Ma poi guarda dove siamo. Dai, ma come si fa a vivere così? Qui sembra sempre di essere in vacanza. Ma che vita è questa? E poi, no, veramente, mettiamo in chiaro questa cosa perché ci tengo. Cioè io non sono venuto qui per trovarmi un amante, hai capito? Invece ora mi sembra... Invece ora o mi vesto e ci metto un'ora perché devo fare la doccia e tutto il resto o mi spoglio e ci metto un attimo. Decidi tu. Grazie. Grazie.